E' il reo confesso Domiziano di Domizio, l'uomo che nel pomeriggio del 13 maggio dello scorso anno ha strozzato la madre Arcangelina Silvestri, un'ex maestra di 83 anni provocandone la morte. Il pubblico ministero Marica Ponziani per l'imputato ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio volontario e ieri a Chieti si è svolta l'udienza preliminare dal GUP Paolo di Geronimo, udienza che è stata rinviata perché di Domizio è attualmente ricoverato in custodia cautelare presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa a causa delle sue condizioni mentali che non permettono la permanenza in carcere. L'aggiornamento dell'udienza è stata avanzata dall'avvocato difensore Cristiano Sicari. Della tragedia si accorse la sorella dell'imputato Rita dipendente della Daico che una volta tornata a casa bussò alla porta senza ottenere risposta. Una volta chiamati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 trovò di Domizio sul balcone in evidente stato di agitazione e con l'intenzione di suicidarsi. Portato subito all'ospedale l'imputato confessò subito di aver ucciso la madre. Dopo sette ore di interrogatorio negli uffici della questura l'uomo ufficializzò la confessione ma giustificò il gesto sostenendo che era ossessionato dalla donna colpevole a suo dire di rimproverarlo in continuazione. Di Domizio era una persona normale e attiva un incidente in moto lo cambiò il suo amore non tornò più lo stesso invaso da una grave depressione che lo costrinse a curarsi in un centro di igiene mentale uno stato di prostrazione che la madre Rita non riusciva a sopportare e cercava di risolvere rimproverando il figlio fino a quella fatidica notte del 13 maggio in cui Domiziano l'ha uccisa. Per adesso quindi l'udienza è rinviata a data da definirsi.